Benvenuti al secondo seminario di cultura matematica di quest'anno da parte del professor Betti e mia. Voglio dare il benvenuto a tutti i colleghi che sono qua oggi, a tutti i nostri studenti che sono qua oggi, anzi vi invito a fare ulteriore pubblicità a questa iniziativa che quest'anno è fruibile, come sapete, anche da casa in diretta streaming, però naturalmente la presenza per noi è anche altrettanto importante. E quindi però il benvenuto anche a tutti quelli che ci seguono da casa in diretta e che possono intervenire in diretta usano il nostro sito facebook fds.polimi sul quale c'è una timeline, ci sono le professoresse Norando e Magnachi che sono qua per voi, per leggere le domande e proporre quelle più interessanti. L'ospite di oggi è il professor Salvatore Capoziello che è ordinario di astrofisica all'Università di Napoli ed è presidente della Società Italiana di Fisica della Gravitazione. È un amico da una vita perché abbiamo scoperto di essere nati lo stesso giorno, diciamo, quindi i nostri vergiti erano praticamente contemporanei nello stesso giorno, non dico quando, a Roma. Il suo titolo è Cosmologia dal mito alla scienza, però siamo due amici ed è un'occasione anche per ricordare un terzo amico che è il professor Mauro Francaviglia che è scomparso prematuramente nel giugno di quest'anno e che era stato il fondatore e ideatore, ex macchina, diciamo, della Società di Fisica della Gravitazione di cui Salvatore è l'attuale presidente e anzi saluto la moglie Marcella che non può essere con noi oggi ma che so che ci sta seguendo. Quello che voglio raccontarvi oggi, tra l'altro c'è anche un aspetto emotivo perché parte di queste ricerche appunto sono state sviluppate insieme al compianto Mauro Francaviglia di cui vi parlerò brevemente alla fine di questa presentazione, è una riflessione sulla cosmologia. La cosmologia può essere considerata in qualche modo la cosa più inutile che il pensiero umano possa praticare e da un lato, mentre dall'altro la cosa più utile perché ci dice che ci stiamo a fare in questo universo e dove vogliamo andare a parare. Quello che vi voglio presentare oggi, molto rapidamente, sperando di non annoiarvi, è il discorso di come il pensiero cosmologico passa da una concezione mitica ad una concezione scientifica. Può sembrare una cosa banale in un'epoca in cui pensiamo che con la scienza possiamo risolvere tutto ma invece è tutt'altro che banale perché, come vedremo, come tenterò di farvi vedere e tenterò di convincervi, la cosmologia può essere in pratica formulata in tutte le culture e in pratica il passare da mito a scienza è un passaggio estremamente complesso che, diciamo, da 3.000 anni a questa parte si sta tentando di fare. Allora, parto direttamente con delle domande. Queste domande le faccio a voi e agli amici a casa perché sono in pratica le domande fondamentali che abbiamo in cosmologia. Prima di tutto, che cos'è la cosmologia? Poi, a che serve? Oggi purtroppo siamo in un'epoca in cui pensiamo che la cultura debba sempre servire a qualche cosa, servire in senso pratico. Quindi è importante proprio porsi queste domande. È una scienza in termini galileiani oppure una metascienza? Cioè nel senso che dire scienza in termini galileiani noi intendiamo qualche cosa che sia basata sul metodo galileiano che debba essere ipotetico, deduttivo e sperimentale. Quindi fare esperimenti in cosmologia, che vuol dire? Poi, altro punto, perché esistono tanti modelli cosmologici se l'universo che osserviamo è uno solo? E poi che ruolo hanno in questa disciplina? Materie e discipline quali la fisica, la matematica e l'astronomia. E poi, queste le domande più antiche di tutte, ci sono relazioni tra cosmologia, filosofia e religione? E poi, fondamentalmente, perché, questo è il punto secondo me più interessante di questo discorso, perché la filosofia non ha esaurito il discorso cosmologico. Quindi, oggi, cosmologia, scientifica e filosofia si parlano o non si parlano? Diciamo che più che darvi ricette precostituite, risposte, vorrei appunto stimolare la vostra attenzione su queste domande e cercare, appunto, di creare insieme a voi un percorso. Bene, allora, punto importante, cosmologia e cultura. Che si intende, diciamo, un po', dal punto di vista dell'antropologia culturale con la parola cosmologia? Diciamo che in tutte le epoche e in ogni cultura una classe di persone, diciamo non tutte, ma una volta la classe sacerdotale, adesso gli scienziati e via discorrendo, si sono posti questa domanda, ovvia, ma non tanto. Qual è la natura dell'universo? Qual è il suo fine? E che struttura ha l'universo? E poi, da un punto di vista più particolare, quali sono le relazioni tra l'uomo e l'universo? Cioè, noi, come ci poniamo come osservatori rispetto all'universo? E qual è il nostro ruolo? Quindi, direi, possiamo avere due tipi di concezioni. Una concezione che è fondamentalmente oggettiva. L'uomo è una componente cosciente dell'universo e una soggettiva. Cioè, l'uomo che percepisce e concepisce l'universo. Attenzione, queste due parole non sono solo un gioco di parole, scusate il termine, ma percepire l'universo, in qualche modo, vuol dire quello che noi sentiamo. Concepire vuol dire fondamentalmente formulare, alla fine, un modello cosmologico e quindi, in altre parole, come l'uomo che è soggetto intende l'universo. È ovvio che un artista e uno scienziato possano avere concezioni completamente diverse dell'universo. E in questo modo, appunto, abbiamo un'accezione oggettiva ed un'accezione soggettiva di questo concetto. Partiamo un po' dalle ovvietà. Per i greci, in particolare per Anassimandro, Anassimandro si pone il problema dell'universo in maniera, diciamo, un po', all'inizio, un po' distaccata dalla concezione religiosa. Anassimandro, nel famoso frammento B, dice, delle sue opere, appunto, delle poche cose che ci sono pervenute, dice che l'universo è ciò che è governato da legge. Quindi la cosmologia è un discorso sulle leggi che dominano, che governano l'universo. Naturalmente, gli viene contrapposto il caos che è la totale assenza di leggi. Quindi, siccome nell'universo io riscontro presenza di leggi, quello che voglio andare a dire è cercare di capire se tutto ciò che è governato da legge può essere essenzialmente visto sotto lo stesso punto di vista. Quindi, è chiaro che, qui riporto una bella frase appunto di Kassirer, di Ernst Kassirer, che parla del problema cosmologico nel suo famoso saggio sull'uomo. E ci dice, è chiaro che scindere il problema cosmologico dalla filosofia e dalle domande ultime dell'uomo rischia di rendere questa ricerca un mero esercizio intellettuale non collocabile nel quadro più esteso di una più generale antropologia culturale. Quindi, Kassirer pone il valore culturale a quelle domande che ci siamo fatte poco fa che, oltre ad essere domande appunto di curiosità, potrebbero essere inquadrate in un discorso più ampio di che cos'è l'uomo, che cos'è la sua cultura e qual è l'ambiente dell'uomo. In un altro passo appunto, Kassirer dice che l'ambiente naturale dell'uomo è la sua cultura. E quindi la cosmologia rientra immediatamente in questo ambiente naturale. Quindi, questa è un'altra frase importante di Ludovico Gemona che appunto pone l'accento sugli strumenti culturali specifici di una data epoca per poter formulare un modello cosmologico. Cioè, nel senso, l'indagine cosmologica diventa un paradigma in cui un sistema di conoscenze si pone il problema uomo e nel problema uomo c'è l'aspetto non banale del perché siamo su questa Terra e in questo universo e come possiamo capire la nostra collocazione all'interno di questi. Quindi, Gemona conclude il suo discorso a che livello e quando si può parlare di cosmologia come scienza. Quindi, vediamo un po' di storia. Questo punto di vista, cioè, quest'ultimo punto di vista risale alla fine del Settecento perché la cosmologia era considerata una specie di scienza metafisica. Attenzione, scienza metafisica con connotati negativi. Cioè, nel senso che era inutile porsi il problema cosmologico perché tanto non l'avremmo mai potuto risolvere. È interessante il fatto che in certi regimi, per esempio in epoca staliniana, in Russia, era vietato parlare di cosmologia e studiare cosmologia. cioè, non era banale la cosa, si rischiava il gulag, perché parlare di cosmologia voleva dire fondamentalmente perdere tempo, perché non era una scienza galileiana. Quindi, la cosmologia rientrava nell'alveo delle scienze della natura, della filosofia della natura. C'è un bel saggio di Wolf, fine del Settecento, che è un filosofo romantico, e Wolf appunto dice che appunto la cosmologia rientra nella scienza della natura, però alla fine, alla fine, fino all'inizio del Novecento, fondamentalmente, aveva uno scarso valore epistemologico, perché in pratica voleva dire porsi domande a cui non si poteva dare una risposta. Quindi, però, a un certo punto, interviene un fatto che cambia le carte in tavola. Questo fatto si colloca nell'ottobre del 1917. A un certo punto, Albert Einstein, in una bellissima prolusione che fa all'Accademia Prussiana delle Scienze, dimostra che è possibile formulare un modello cosmologico a partire dalle equazioni della relatività generale. Quindi, Einstein dice, io posso indagare il problema cosmologico in maniera scientifica, cercando di vedere spazio e tempo come grandezze dinamiche. E quindi posso dire, almeno in linea di principio, qui siamo nel 1917, ancora c'era il pregiudizio che dicevamo poc'anzi, che la cosmologia aveva scarso valore epistemologico, Einstein formula il primo modello cosmologico basato su equazioni. Quindi, che cosa ci dice Einstein? attenzione, l'universo, malgrado la concezione che io posso averne, può essere considerato un sistema dinamico che può essere descritto da equazioni relativistiche del moto. E quindi, io posso definire delle soluzioni, delle soluzioni basate sulla geometria, sulle mie equazioni, appunto, che mi dicono come questo sistema evolve in base alla distribuzione di materia che io possa avere in esso. Attenzione, questo passaggio è cruciale, perché questo passaggio ci porta a dire che se io riesco ad avere delle buone osservazioni, riesco a fare, ve lo dirò tra un attimo, una buona cosmografia, cioè in pratica se riesco a dire quante, come la materia è distribuita nell'universo, in base alle equazioni di campo, in pratica in base all'equazione della relatività generale, posso fondamentalmente dire come il mio sistema evolve. Quindi, porsi l'idea che l'universo è un sistema in evoluzione e che l'universo è un sistema dinamico diventa tutt'altro che banale. Attenzione, anche Einstein aveva un pregiudizio. Il primo modello cosmologico che viene formulato è un modello statico. Forse sapete che a un certo punto Einstein per stabilizzare questo universo ci pone la costante cosmologica e questa costante cosmologica bloccava tutto. Cioè, in pratica, Einstein aveva trovato la soluzione del problema però il tabù era ancora che l'universo era qualcosa di statico e stazionario che stava lì per fatti suoi. Quando nel 1924, qualche anno dopo, Edwin Hubble scopre che le galassie recedono, quindi il fluido cosmico è in espansione, Einstein dirà che la costante cosmologica è stato il più grande errore della sua vita. In realtà, questo grande errore ci serve ancora oggi perché tutta la cosmologia moderna, in pratica, è basata su questa concezione di costante cosmologica. Però non andiamo troppo nei dettagli perché vogliamo rimanere nel nostro sistema, nell'alveo di queste riflessioni. Quindi, la rivoluzione culturale nasce dal fatto che a un certo punto c'è una estremizzazione del metodo scientifico, mi piace chiamarla così. Cioè, la rivoluzione culturale è questa, che non solo il sistema riproducibile in laboratorio può essere investigato col metodo galileiano, ma lo stesso universo, se io riesco a tirarne fuori delle leggi e riesco a trovare un sistema di osservabili che sono in accordo con queste leggi, lo stesso universo è suscettibile di essere interpretato da un punto di vista scientifico. Quindi, a un certo punto, entrano in ballo tutte le discipline che a noi interessano e che noi pratichiamo, perché se questo paradigma einsteiniano vuole essere portato a termine, ci interessa conoscere la fisica teorica, fisica teorica perché ci occorrono le equazioni del campo gravitazionale, la matematica, perché appunto si parlava poc'anzi col professor Magli che trovare soluzioni delle equazioni del campo gravitazionale è uno dei sogni proibiti di tutti i relativisti, perché trovarle è qualche cosa di estremamente complicato ma anche di estremamente soddisfacente. Poi ci occorre l'astronomia extragalattica, perché? Perché ci occorrono le informazioni su quello che noi andiamo ad osservare, perché formulare modelli cosmologici tra virgolette è facile, confrontarli con le osservazioni è qualche cosa di estremamente complicato. E addirittura il discorso può essere estremizzato perché a un certo punto ci può occorrere anche la chimica, perché la chimica ci dice fondamentalmente di che cosa è composto il nostro universo e c'è addirittura una parte della cosmologia o dell'astrofisica in realtà, la cosiddetta astrobiologia, che si pone il problema estremo di vedere se esistono effettivamente le possibilità che ci sia materia biologica o anche in altri sistemi tipo il sistema solare. Quindi, quindi, che succede? Succede che il problema cosmologico acquisisce un profondo valore epistemologico e a questo punto la cosmologia che era stata scartata dall'alveo delle discipline scientifiche ci rientra pesantemente e attualmente oggi la cosmologia è uno dei campi più attivi dell'astrofisica. Proprio è recente la scoperta di qualche giorno fa che molto probabilmente è stata trovata la segnatura della cosiddetta inflazione, cioè in pratica del fatto che l'universo si sta espandendo e forse è stata trovata la prima segnatura di questa espansione che è connessa con le onde gravitazionali. Bisogna ancora verificare quanto è vero questo esperimento, però capite che il valore conoscitivo di una cosa del genere è enorme. Allora, adesso, detto questo, cambiamo un attimino prospettiva. Che cosa vuol dire modello cosmologico? Se voi, per quelli di voi che sono un po' più addentro, sapranno benissimo che esistono molti modelli cosmologici. Perché molti modelli cosmologici se l'universo poi che osserviamo è uno solo? Per una ragione molto semplice. Quando io faccio un esperimento scientifico, che faccio? Propongo una teoria e in base a questa teoria prendo un certo numero di dati e vedo quali di questi dati si dice tecnicamente fittano o no questa teoria. In cosmologia questo è impossibile perché i dati me li manda il padre eterno, cioè quelli che osservo, quelli che ho dalle osservazioni. E quindi che cosa devo fare? Qual è il miglior modello cosmologico? Il miglior modello cosmologico è quello che è più aderente ai dati. Naturalmente il discorso a farsi è facile poi dal punto di vista concreto è estremamente complicato fittare i cosiddetti dati cosmologici. Quindi il modello cosmologico deve essere concepito in maniera piuttosto attenta. Allora per concludere appunto questa prima parte direi che la speculazione cosmologica è propria di tutte le epoche. Adesso vi farò una piccola carrellata dei vari modelli cosmologici che ci sono stati nelle varie epoche e molto spesso un modello cosmologico rispecchia le istanze culturali di una data civiltà. Per esempio civiltà che non avevano un approccio scientifico con la realtà concepivano il modello cosmologico come una parte della religione o i greci iniziano a cambiare le prospettive appunto la cosmologia diventa una parte della filosofia. noi che viviamo in un'epoca che almeno dovrebbe essere in linea di principio scientifica in quest'epoca scientifica vorremmo trovare il modello scientifico appunto con cui vogliamo descrivere il cosmo. Allora se uno tenta di fare fatemela dire passatemi il termine la botanica dei modelli cosmologici che fa il botanico? Il botanico è quello che faceva l'inneo l'inneo dice io non lo so da dove è venuta da dove sono venute le specie vegetali e le specie animali allora che faccio? Le classifico e vedo quali sono quelle simili e quindi classifico le piante classifico gli animali e via discorrendo. Allora si può fare la stessa cosa anche per i modelli di universo e fondamentalmente da quello che sono riuscito a capire possiamo avere tre tipi di modelli modelli mitico-religiosi che diventano un appendice del credo religioso modelli filosofici basati su una concezione del mondo e modelli scientifici appunto che sono quelli basati sul fatto che a un certo punto l'indagine scientifica viene estesa ed estrapolata anche all'intero universo. A questo punto vorrei fare una piccola distinzione che è estremamente importante che molto spesso sfugge. i molti modelli possono essenzialmente essere caratterizzati in tre modi abbiamo una cosmogonia che è l'origine dell'universo una cosmologia che appunto come dicevamo è lo studio delle leggi che regola l'universo e una cosmografia la cosmografia descrive la posizione dei corpi celesti e a partire da questa tenta di costruire il sistema il modello adatto appunto a poterle spiegare. Voglio distinguerle perché molto spesso cosmologia e cosmogonia vengono confuse però in realtà questa confusione deve essere rimossa perché un conto è l'origine dell'universo e quindi cercare una teoria che dia origine all'universo e questo è oggi terreno aperto per la fisica teorica un conto è descrivere l'universo in maniera più coerente possibile e questo oggi per esempio è uno dei compiti della cosmografia. Allora come vi dicevo poc'anzi molti modelli primitivi tendono ad essere inquadrati in concezioni mitico-religiose oppure addirittura essere assunti come parte del credo religioso. Allora l'intento di questi modelli è un intento che è etico-morale cioè molto spesso l'idea anche in Anassimandro abbiamo una cosa del genere è basata sul fatto che come il cosmo è regolato anche io devo essere regolato la famosa frase di Immanuel Kant che dice il cielo stellato sopra di me il senso morale in me quindi il cosmo rispecchia un ordine che deve essere anche in me stesso quindi c'è questa accezione etica nella concezione del modello cosmologico e diciamo tutte le cosmogonie cosmologie teogonie antiche in qualche modo rispecchiano questo paradigma qui per esempio abbiamo molto spesso degli esempi di creatio ex nihilo per esempio qui abbiamo che per gli egizi l'unione di un principio maschile e di un principio femminile dà origine all'universo questa è sempre la stessa la stessa rappresentazione appunto della concezione dell'universo egiziano anche la stessa la stessa bibbia dà questo tipo di concezione cioè la tenda del cielo e la tenda del cielo è essenzialmente la dimora di Dio Dio sta al di sopra e dentro questa tenda e fondamentalmente in questo tipo di modelli non ci si chiede tanto qual è stata l'origine l'origine viene immediatamente ascritta a Dio e quindi quello che succede è che la gente dice la gente questi antichi pensatori dice che fare osservazioni astronomiche ci interessa relativamente perché tanto tutto è stato posto in maniera perfetta appunto da Dio questa è una interessante ricostruzione schematica che è stata fatta da Schiapparelli appunto del mondo biblico appunto si vede le acque superiori si vede la terra e si vede essenzialmente il fatto che il modello ebraico di cielo è estremamente semplice la cosmogonia viene affrontata per la prima volta dai greci in maniera anche piuttosto ingenua ma piuttosto interessante ci si inizia a porre il problema dell'uovo cosmico cioè l'origine di tutto a un certo punto nasce dal fatto che un uovo come l'uovo genera la vita anche un uovo cosmico potrebbe dare origine a questo grande organismo che appunto è l'uomo naturalmente in queste concezioni c'è una c'è poca distinzione tra una percezione immanente trascendente del divino perché l'uovo cosmico essenzialmente è connesso col fatto che dal punto di vista dell'immanenza Dio è all'interno del cosmo mentre invece tutta la religione ebraico cristiana pone Dio al di fuori del 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 cosmo e quindi lo trascende questa appunto è una cosmografia antica quello che succede a un certo punto che i filosofi iniziano a porsi il problema cosmologico quindi qui abbiamo una una turba di filosofi in questa interessante in questa interessante miniatura del tredicesimo secolo e questi signori iniziano a pensare a come è fatto il mondo e perché è stato fatto il mondo quindi diciamo così con l'indagine generazionale si inizia a concepire il problema di modello cosmologico come una parte della speculazione filosofica qui appunto abbiamo un altro esempio di cosmo che è il cosmo di Anassimandro i presocratici hanno parecchio diciamo così lavorato sui modelli cosmologici perché appunto si pongono il problema di vedere se il mondo il cosmo può essere nato non da un capriccio delle divinità come appunto ci diceva poco fa Esiodo ma se invece è nato da una appunto da una struttura che è razionale e che può essere indagata ok questo è sempre il cosmo di Anassimandro quello che inizia invece a succedere diciamo qui stiamo nella tarda antichità è che si inizia a concepire modelli cosmologici basati sull'osservazione cioè i greci sono i primi che dicono se io riesco a fare una buona cosmografia posso dire che tipo di universo ho l'universo tolemaico fondamentalmente è questo è un universo cosmografico naturalmente non viene detto nulla sull'origine di questo universo però Ptolomeo ci dirà fondamentalmente che io posso avere una struttura geocentrica al tempo esisteva un osservatore privilegiato che era l'uomo e rispetto a questo osservatore privilegiato poteva essere fatto l'universo Dante Alighieri ci dice in tutta la sua divina commedia che esiste questo sistema in questo sistema c'è questo osservatore privilegiato che appunto poi però deve mettersi in relazione con Dio perché è l'ultimo gradino prima di Dio per quanto riguarda la coscienza dell'universo qui appunto Democrito e Deracrito che in un'immagine rinascimentale che parlano della struttura del mondo quindi inizia a svilupparsi una specie di paradigma questo dai greci e poi però sarà esaltato secondo me nel rinascimento l'universo ha avuto un'origine da una creazione divina ad un dato tempo l'universo è geocentrico ed antropocentrico quindi estremamente soggettivo rispetto a quello che dicevamo all'inizio la sua struttura non è indagabile attraverso strumenti scientifici questo è il punto appunto degli antichi modelli e una cassa sacerdotale dogmatizza il modello cosmologico inserendolo in una dottrina religiosa quindi iniziamo a vedere che queste cosmografie primitive si basano a un certo punto su una struttura stazionaria cioè Dio dà origine all'universo così com'è che l'indagine astronomica in qualche modo potrebbe essere connessa con essa e si può iniziare ad osservare che a un certo punto questi dati potrebbero dirci come è fatto il cosmo tant'è vero che le opere di Ipparco di Aristarco Eratostene e tutti gli altri astronomi greci contribuiscono a questa visione che succede nel rinascimento nel rinascimento ci si accorge che il cielo non è così stazionario come sembra appunto Tico Brahe Copernico Cheplero Galileo Bruno iniziano a distaccarsi da questa cosmologia come una visione mitico-religiosa e inizia a nascere l'ipotesi che si possa avere una concezione scientifica anche se è molto larvata questa concezione questo per esempio è una rappresentazione dello studio di Tico Brahe ma e avvengono due fatti cruciali secondo me questi due fatti nella storia della cosmologia sono estremamente importanti il primo è diciamo così un discorso che direi eretico Bruno dice Giordano Bruno dice che possono esistere universi infiniti mondi ok questi infiniti mondi sono opposti in contrapposizione ai sistemi chiusi classico-medievali cioè tutti i sistemi classici i sistemi medievali sono dei sistemi chiusi l'universo è fatto così Dio l'ha disposto così basta secondo punto interessante è che invece Galileo Galilei inizia ad investigare questo cosmo appunto nel 2009 è stato l'anno dell'astronomia perché Galileo Galilei ha visto che il cosmo ad occhio nudo ed il cosmo che poteva essere studiato tramite un cannocchiale poteva essere diverso quindi Galileo si pone il primo per primo nell'ipotesi che se io cambio la prospettiva cioè se inizio a usare gli strumenti scientifici non solo per fare gli esperimenti in casa nel mio laboratorio ma anche per osservare il cosmo potrebbero esserci delle belle sorprese tipo i satelliti medicei o addirittura quello che noi vediamo oggi che ogni volta che abbiamo uno strumento astronomico più potente sembra che il cosmo si allarghi sempre di più ok allora a un certo punto che succede con la cosmologia intesa come filosofia e qui c'è 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 una svolta questa svolta viene da Immanuel Kant Immanuel Kant nelle sue quattro famose antinomie in pratica riconosce implicitamente che la filosofia è inadeguata a rispondere su come è fatto il mondo perché perché le antinomie ci dicono il mondo è limitato nello spazio e nel tempo il mondo è illimitato nello spazio e nel tempo nel mondo tutto è semplice nel mondo tutto è composto il divenire è libero il divenire è necessario esiste un essere necessario non esiste nulla di necessario quindi non si riesce a rispondere con i soli strumenti filosofici a queste domande perché perché sono inadeguate per esempio per la prima per poter capire se lo spazio e il tempo sono illimitati deve avere degli strumenti scientifici per poter riconoscere questo fatto quindi Immanuel Kant pone un punto fisso dice attenzione ragazzi o iniziamo a pensare alla cosmologia e quindi anche diciamo alla struttura dell'universo in termini diversi da quelli che sono le indagini filosofiche oppure stiamo perdendo tempo secondo me da questo nascono tutte le filosofie speciali che poi troveremo appunto l'idealismo il materialismo e via discorrendo appunto tutto l'ottocento e tutto il novecento è pieno appunto di diverse concezioni filosofiche quindi il sistema monolitico del spiegare come è fatto il mondo all'Aristotele in qualche modo fallisce nel momento in cui Kant ci pone questi questi problemi allora per per riassumere qui vi ho preparato questo schemino possiamo dire che abbiamo dei modelli mitico-religiosi appunto quelli classici gli assiro-babilonesi gli egizi gli ebrei la Grecia arcaica in cui fondamentalmente si pone il problema cosmologico a partire dal fatto che Dio o gli dei danno origine al reale alla realtà che noi osserviamo questi modelli sono caratterizzabili dal fatto che sono geocentrici e antropocentrici esiste un osservatore particolare che è l'uomo e esiste un punto di riferimento particolare che è la terra a partire da questo mi costruisco il mio modello quello che succede appunto che parte dai Greci ma poi diventa sistematico nel Rinascimento è che i modelli possono diventare descrittivi quindi un modello descrittivo è un modello che si basa sul fatto che se io ho buone osservazioni astronomiche a partire da queste posso andare a vedere qual è la struttura e la dinamica dell'universo però anche in questo caso possiamo giungere al fatto il salto di qualità che vi dicevo poco anzi non si ha perché anche questi modelli sono chiusi non evolutivi e anche se basati su osservazioni astronomiche appunto e poi vedete come vedete qui non ho messo nessuna freccia di collegamento con queste altre due situazioni perché abbiamo questa parte eretica di Bruno che pone il fatto che i modelli possono essere infiniti e aperti poi che cosa succede? succede fondamentalmente che a partire da Kant con la famosa ipotesi di Kant Laplace in poi i modelli possono avere delle strutture fisico-matematiche cioè in pratica che succede? succede che in linea di principio posso descrivere quello che osservo a partire da delle equazioni e diciamo così l'epilogo di questa concezione è il il modello einsteiniano che vi ho raccontato poc'anzi cioè a cui ho accennato poc'anzi del 1917 che succede dalla relatività in poi e qui siamo ai nostri giorni in particolare dal 1917 al 1924 in poi succede che che questi modelli possono essere arricchiti passatemi il termine dalle osservazioni cioè nel senso mentre non posso rifare l'esperimento cosmologico posso però prendere le osservazioni che mi arrivano e a partire da queste osservazioni vedere se queste osservazioni sono in accordo o no col modello fisico-matematico che ho costruito e qui si arriva a oggi si arriva addirittura al fatto che potrei trovare delle leggi e in particolare qui ho citato la cosiddetta cosmologia quantistica in base alle quali posso dire oggi qual è stata l'origine dell'universo nel momento in cui riesco ad identificarne in maniera autoconsistente le leggi per le condizioni iniziali e questo è fondamentalmente il quadro che oggi noi abbiamo quadro che sarà immediatamente rivisitabile e rivisto molto probabilmente negli ultimi nei prossimi anni perché ci sono ancora una quantità di questioni aperte in cosmologie in cosmologie pazzesche però fondamentalmente oggi come posso andare a concepire la cosmologia dal punto di vista scientifico posso fondamentalmente dire che l'universo è un sistema dinamico dire che è un sistema dinamico vuol dire che esistono delle equazioni che ne descrivono appunto l'evoluzione queste equazioni possono essere in accordo con un principio il principio cosmologico che ci dice il principio cosmologico quando è che posso passare dall'astronomia alla cosmologia il principio cosmologico fa un'assunzione piuttosto semplice ma molto importante ci dice nel momento in cui io sono a scale così grandi che non posso più riconoscere strutture autogravitanti tipo gli ammassi di galassie le galassie e via discorrendo a quel punto sono a scale cosmologiche il principio cosmologico fondamentalmente ci dice che l'universo da certe scale in poi appare omogeneo ed isotropo ok questa è estremamente interessante come cosa perché ci può dire qual è il confine tra le scale locali e le scale cosmologiche fondamentalmente è un'assunzione però questa assunzione è estremamente interessante nel momento in cui vogliamo formulare modelli cosmologici in più c'è un dato estremamente importante che un modello dinamico può essere connesso con l'evoluzione delle strutture che cosa vuol dire evoluzione delle strutture posso supporre che quello che osservo oggi non è che sta lì come una fotografia statica da sempre ma è qualche cosa che è evoluto tant'è vero che se io faccio delle cosiddette deep survey delle osservazioni in profondità mi accorgo che le strutture non sono sempre le stesse quando parlo di strutture parlo di galassie di ammassi di galassie se vado in profondità nelle osservazioni vado in profondità nel tempo quindi a tempi passati mi accorgo che le strutture che osservo oggi non sono le stesse quindi questo è un indice estremamente importante del fatto che l'universo è un sistema dinamico in più c'è una seconda accezione che è importante che l'universo è anche un sistema termodinamico perché io posso conoscere qual è lo stato della materia cosmologica e fondamentalmente perché c'è stata una scoperta secondo me importantissima per la cosmologia che è stata la scoperta della radiazione di fondo cosmico questa radiazione di fondo cosmico scoperta appunto nel 1965 da Penzias e Wilson ci dice che l'universo che cos'è? è un corpo nero è essenzialmente un sistema termodinamico che si compone come un corpo nero una delle caratterizzazioni fondamentali dei corpi neri è essenzialmente la sua temperatura l'universo è un sistema che ha una propria temperatura una temperatura di background si dice così e la cosa interessante è che questa temperatura è estremamente bassa è dell'ordine dei 3 gradi Kelvin e il punto nodale per cui è possibile dimostrare che il nostro universo è un sistema termodinamico sta nel fatto che guardando in profondità guardando ad epoche diverse mi accorgo che questa temperatura cresce fino a quanto cresce cresce fino a quando io possa avere un punto da cui tutto ciò è iniziato appunto il cosiddetto Big Bang quindi se io posso avere il Big Bang che cos'è il Big Bang? il Big Bang è fondamentalmente uno stato della materia e dello spazio-tempo in cui le leggi della fisica che io vado a formulare oggi non valgono più quindi la gente dice il Big Bang è una singolarità allora che cosa è successo? è successo che anche lì a un certo punto devo poter dire questo Big Bang da dove ha avuto origine allora posso farlo in vari modi posso farlo in un modo secondo me diretto che è quello di vedere se è possibile darne una descrizione in termini quantistici perché chiamo questa una estremizzazione del concetto per questa ragione voi sapete che a un certo punto quando io parlo di materia in stati particolari devo andare a invocare la meccanica quantistica la meccanica quantistica è quella parte della fisica che si interroga essenzialmente su sistemi estremamente piccoli l'universo essendo un sistema un fluido in espansione si può essere trovato in una situazione quantistica ad una certa epoca questa situazione quantistica potrebbe aver dato origine a tutta una serie di belle cose prima cosa per esempio potrebbe aver dato origine alle strutture così come noi oggi le osserviamo potrebbe aver dato origine a quello che è il sogno di tutti i fisici teorici cioè l'unificazione delle forze e quindi che cosa succede? succede che l'estremizzazione qui veramente siamo quasi in filosofia di questo di questo approccio è pensare che anche l'universo si comporti come un qualsiasi sistema fisico che a un certo punto non può essere più descritto classicamente ma deve essere descritto quantisticamente descriverlo quantistica descrivere un universo quantisticamente ha tutta una serie di implicazioni non banali prima implicazione è che se io vengo da voi e vi dico secondo voi da un punto di vista matematico che cosa sono lo spazio e il tempo voi mi rispondete che lo spazio e il tempo sono due continui ok? io posso dire che un secondo è vicino all'altro secondo precedente a quello successivo quindi posso parlare di un continuo temporale posso parlare di un continuo spaziale bene se io devo parlare di gravità quantistica e di cosmologia quantistica a un certo punto devo pormi il problema che l'indeterminazione di Heisenberg quella che ci dice appunto che le particelle non possono essere individuate dal punto di vista della posizione e della velocità deve valere per lo spazio-tempo allora se uno adesso viene da me e mi dice che cos'è lo spazio-tempo quantistico e io do una risposta sono un gran bugiardo perché non lo so bisogna essere molto umili in queste cose anche se possono sembrare ardite quindi il problema se vogliamo trattare dell'universo come un sistema standard fisico a un certo punto ci dobbiamo porre il problema della gravità quantistica cioè di come lo spazio e il tempo possono essere trattati quantisticamente e se questo spazio e tempo possono dare origine a quello che poi è l'universo che noi oggi osserviamo quindi e qui chiudo il discorso che cosa ci serve per costruire oggi nella cosiddetta epoca della scienza un modello cosmologico ci serve la relatività generale o meglio una teoria che ci dia fondamentalmente come trattare la distribuzione della materia nello spazio e nel tempo ci serve una teoria delle particelle elementari perché sappiamo che il livello elementare le particelle possono essere distinguibili secondo un cosiddetto modello standard in una in certe famiglie l'anno scorso abbiamo avuto questa bellissima conferma appunto di aver trovato il bosone di Higgs che conferma questo modello standard delle particelle elementari poi ci serve l'astronomia extragalattica ci serve una teoria delle perturbazioni perché metto do tanto rilievo alla teoria delle perturbazioni perché queste perturbazioni sono delle perturbazioni che all'inizio sono quantistiche poi diventano la struttura a larga scala che noi oggi osserviamo cioè diventano le galassie gli ammassi di galassie naturalmente capite che passare da dimensioni quantistiche a dimensioni galattiche extragalattiche è un bel balzo quindi trovare una teoria delle perturbazioni adatta a poter fare una cosa del genere diventa estremamente complesso quindi abbiamo tutta una serie di prospettive prima prospettiva l'uomo come osservatore cioè alla fine siamo ritornati al punto di partenza sempre noi facciamo le osservazioni l'osservatore è privilegiato dal metodo scientifico cioè nel senso che noi a un certo punto formuliamo modelli questi modelli possiamo andare a confrontarli con le osservazioni questo osservatore può riconoscere o no dipende poi anche dalla sensibilità personale l'intellegibilità dell'universo questo osservatore misura le costanti fondamentali della fisica quindi ci dice in qualche modo perché c'è l'attrazione gravitazionale perché la luce si propaga in un certo modo questo osservatore può riconoscere l'evoluzione delle strutture astrofisiche quindi quindi si può parlare di principio antropico in forma debole che cosa vuol dire principio antropico principio antropico vuol dire fondamentalmente che c'è questo osservatore privilegiato qui poi diventa una questione che esula dalla scienza e qui non voglio dire cose che potrebbero essere male interpretate però il discorso dello scienziato si ferma secondo me molto modestamente a parlare di uomo come osservatore tutto il resto poi diventa connettibile con propri credi filosofici religiosi e via discorrendo l'unica cosa interessante che però direi è che noi possiamo essere un'autocoscienza un'autocoscienza che in qualche modo in questo universo ci fa fare delle osservazioni e quindi ci permette di conseguire dei risultati osservativi da poter connettere con dei modelli qui finisce la mia chiacchierata e per concludere voglio come appunto citava poc'anzi il professor Magli voglio concludere ricordando un caro amico che fra l'altro varie volte è venuto qui al Politecnico di Milano come appunto come scienziato egregio e come appunto cosmologo che appunto è Mauro Francaviglia che è stato questa è un po' la sua breve biografia detta appunto in una slide nasce a Torino nel giugno del 1953 è morto a Rende in Calabria nel 2013 e ha vissuto esattamente 60 anni è stato un uomo di molteplici interessi in particolare qui vedo quelli che erano appunto i suoi la sua collocazione in qualche modo accademica e questa è la sua collocazione secondo me molto più prestigiosa dal punto di vista scientifico come potete vedere qualcuno l'ha chiamato un omnigenio era una persona che appunto era interessato come potete vedere di tutti gli aspetti a livello fondamentale sia della scienza che della comunicazione scientifica credo che avrebbe avuto molto piacere di avere una conferenza come questa in infatti qui sta facendo appunto una delle conferenze questa foto è stata scattata dalla moglie da Marcella Lorenzi che saluto che molto probabilmente ci sta ascoltando e quindi mi piace ricordare Mauro perché Mauro è stata una figura straordinaria di scienziato ma anche di umanista appunto diceva non mi basterebbero 300 vite per imparare tutto ciò che vorrei conoscere quindi si faceva chiamare matematico di professione ma artista nel cuore grazie per la vostra attenzione grazie per la vostra attenzione grazie per la vostra attenzione